Ciao a tutti gli amici di Pistacchissimo.it Guardate che verde è meraviglioso dentro questa bottiglietta Parliamo di topping al pistacchio e non uno qualsiasi Il primo prodotto firmato Pistacchissimo Non vi è alcuna traccia di latte o derivati Quindi è perfetto per vegani e intolleranti al lattosio Prodotto da Lorcam con il loro pistacchio di altissima qualità Come di consueto partiamo leggendo l'etichetta Il primo ingrediente è Pistacchio verde di Bronte d'Op al 52% Una percentuale altissima e poi pochissimi altri ingredienti Tra cui olio di girasole e zucchero Istruzioni per l'uso, agitare Sentire il profumo di pistacchio veramente impressionante E spremerlo su qualcosa Sotto già è buonissimo, poi con il topping pistacchissimo sopra Una cosa inarrivabile Sapore di pistacchio super intenso La consistenza è cremosa ma con un po' di granularità di tutto il pistacchio tritato in mezzo È fantastico veramente Tra l'altro non è troppo dolce Anzi ha una lieve nota salata Che crea un contrasto pazzesco E quindi se siete curiosi di provarlo Basta scrivere all'Orcam su Facebook o su Instagram Inviando un messaggio per fare un ordine Con questo è tutto Io vado a cercare qualcos'altro su cui spremerlo Un saluto e al prossimo video Un saluto e al prossimo video